Ora sì che ci siamo. Ciao e bentornati dal vostro Lorettec. Meglio tardi che mai mi sono deciso ad acquistare l'Apple Wallet. In questo video vedremo il suo funzionamento e che cosa possiamo fare con questo accessorio di Apple. Ma direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito. Di cosa abbiamo bisogno per utilizzare il nostro Apple Wallet? Di un iPhone dalla dodicesima generazione in poi. Noi utilizzeremo il mio iPhone 12 mini. Prendiamo il nostro Apple Wallet, lo andiamo a posizionare nella parte posteriore attraverso la calamita. Utilizzando il MagSafe si aggancerà automaticamente. Questo è il risultato finale. Arriva proprio a filo del nostro iPhone 12 mini. Vi faccio vedere adesso meglio nel dettaglio questo bellissimo Apple Wallet che non è altro che un portafoglio. Io ho scelto questa colorazione arancione con queste cuciture a vista. Logo Apple a rilievo. Nella parte posteriore abbiamo questo foro. Attraverso il pollice possiamo far scorrere le nostre carte. In questo caso io ho inserito dentro la mia Buddy Bank che uso tutti i giorni per i miei acquisti e inoltre anche la mia tessera dei trasporti del Trentino. Qual è la comodità di questo portafoglio? Potete inserire fino a un massimo di 2-3 tessera. Io in questo caso ne utilizzo due perché poi andremo troppo a sforzare magari questa parte. Rischiamo di andare a scugire magari il portafoglio. Comodissimo. Vediamo adesso i pro e i contro. Per quanto riguarda i pro sicuramente la possibilità di poter portare con noi fino a un massimo di 2-3 carte. che possano essere quella dei trasporti, che può essere magari la carta di credito, il banco o la tessera sanitaria in base alle vostre esigenze. Si aggancia magneticamente. Il magnete è molto molto forte. Considerate che abbiamo qui la cover in plastica. Se noi andiamo a rimuovere la cover in plastica chiaramente il magnete è ancora più forte. E come vedete non c'è nessun tipo di spostamento, cosa che magari può succedere. Questo è uno dei piccoli contro. Chiaramente se vogliamo proteggere il nostro iPhone dobbiamo arrivare a scegliere questo tipo di compromesso. Come vedete è solidissimo. Anche inserendolo in tasca praticamente non si muove. Guardate che forza sto facendo. Quindi è veramente molto molto potente. Adesso veniamo un attimo ai contro. La pelle, chiaramente come giusto che sia, con il tempo magari è soggetta a usura, graffi, attagli, può cambiare il colore. Questo magari potrebbe darvi fastidio ma anche la bellezza della pelle. Inserendo più carte purtroppo c'è il rischio di poter scucire questa parte e questa trama. Per cui mi raccomando fate molta attenzione. Tiriamo un attimo le somme. Vale la pena acquistare questo Apple Wallet. Il costo sicuramente non è indifferente. C'è una valanga di colorazioni. Potete scegliere quelle che più vi piace, che si matcha meglio con il vostro iPhone. Io ho scelto questa colorazione arancione che mi fa letteralmente impazzire. Abbiamo tanti pro tra cui la possibilità di poter inserire al suo interno da due fino a un massimo di tre carte. Così da averle sempre subito a portata di mano. Io lo utilizzo anche per timbrare quando devo prendere i mezzi pubblici. Veramente comodissimo. Non ci resta far altro che appoggiare il nostro iPhone e automaticamente avviene la timbratura. Questo è veramente molto comodo per non tirare sempre fuori le carte magari dal nostro portafoglio. Se ho utilizzato una cover ricordatevi che la potenza del magnete non è fortissimo ma questo chiaramente protegge il tutto. Lo reputo un accessorio molto utile soprattutto nell'attività di vita quotidiana. Al supermercato per pagare, per prendere i mezzi pubblici, per portare sempre con sé e non portarvi dietro il portafoglio le carte che utilizzate spesso durante la vostra giornata. Adesso però voglio sapere la vostra. Avete pensato o pensate di acquistare un Apple Wallet? Ne possedete già uno? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. A questo punto non mi resta far altro che salutarvi. Da Apple Wallet, iPhone 12 mini. Allora tecchere è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!